Il voto dei medici. Perché è necessario che il medico sia indipendente da qualsiasi potere? Perché solamente questo garantisce la tutela della salute del cittadino. Perché vedete, ciò che accade in un corpo non è prevedibile. Quindi si scopre piano piano andando avanti e solamente il medico con l'esperienza, la conoscenza, l'intuito è in grado di percepire che cosa accade e di correggere ciò che sta accadendo. Così come un magistrato deve essere libero e indipendente perché altrimenti non si può avere giustizia se non fosse libero e indipendente di decidere sul caso concreto che è davanti, al pari non si può avere salute se il medico non è libero e autonomo di decidere sul caso che è davanti. Ovviamente non decide a capocchia ma deve seguire le leggi artis perché la medicina è un'arte ed è un'arte umanistica e privare degli aspetti di umanità la medicina significa distruggerla. Quindi la libertà e l'autonomia del medico non è un privilegio del medico, non è un gioco ma è realmente ciò che può tutelare il paziente, il cittadino, da avere le migliori cure possibili e il medico se ne assume la responsabilità perché solamente lui può percepire che cosa sta accadendo dentro quel corpo.